Giovani sempre più attratti dalle trasferte all'estero, pronti a partire in cerca di lavoro e nuove opportunità. L'Eurodesk di Pietrasanta, che nell'ultimo anno ha ricevuto più di 300 ragazzi allo sportello dell'Osterietta, fornisce informazioni utili per spostarsi in Europa, sfruttando i fondi a disposizione per coprire costi di trasferimento e di viaggio. Un servizio di consulenza che l'amministrazione Mallegni vuole potenziare per dare una chance in più ai giovani della Versiglia. Dai tirocini al lavoro alla Pari sono tante le occasioni offerte dall'Eurodesk per intraprendere l'avventura in un paese europeo. Un'iniziativa importante è My First Eurus Job, un'opportunità rivolta ai giovani fra 18 e 35 anni, volta a finanziare la partenza o semplicemente i costi che uno deve sostenere all'inizio di una trasferta all'estero. La copertura finanziaria spazia dai costi di trasferta, volti a sostenere un colloquio di lavoro, fino a un contributo forfettario di circa 1200 euro per coprire i costi legati alla permanenza del primo mese in un altro paese.